È una novità assoluta nel panorama regionale. A San Giovanni in carico nasce la cooperativa di comunità, una iniziativa finalizzata al sostegno per lo sviluppo economico e alla solidarietà sociale valorizzando le risorse del territorio. È una metodologia nuova per uscire dall'assistenzialismo. Daremo un'opportunità vera e concreta ai nostri giovani, ai disoccupati del nostro territorio, di mettersi in gioco e attivarsi nel lavoro che servirà appunto alla comunità grazie alla cooperativa di comunità. Si avvia dunque un'azione di contrasto alla disoccupazione ma anche all'abbandono dei terreni, un'azione che mira alla valorizzazione degli immobili comunali, del sistema agricolo con il coinvolgimento diretto della popolazione. Il comune di San Giovanni in carico per questa iniziativa ha preso le mosse da una recentissima legge regionale. È la legge numero 1 del marzo 21 che la Regione Lazio appunto ha emanato. Lo abbiamo preso al volo anche perché la vogliamo immediatamente collegare al bel progetto della Green Valley. Questa sarà l'opportunità per poter mettere a disposizione da subito i terreni comunali e poter accettare anche quei terreni abbandonati dei cittadini per la coltivazione della canapa industriale. Grazie alla cooperativa di comunità a cui potranno aderire tutti i cittadini e anche le aziende agricole del nostro territorio potremo contrastare vivamente l'abbandono dei terreni che ovviamente è una grande risorsa riprendere quei terreni e portarli a coltivazione. E in dubbi vantaggi ci saranno anche per gli stessi cittadini di San Giovanni in carico. Nella cooperativa di comunità sono previsti non solo questi servizi ma anche altri dalla gestione della pulizia dei fossi oppure alla raccolta della legna nel bosco comunale. Tutto questo riserverà oltre che a un guadagno di lavoro per i giovani sangiovannese e anche a un risparmio di acquisto del costo della legna ad esempio da parte del cittadino di San Giovanni in carico perché i cittadini di San Giovanni in carico essendo di diritto costituenti della cooperativa di comunità ovviamente avranno dei prezzi riservati. Dopo il covid dunque bisogna cambiare pagina puntando verso politiche green. La del cosi, l'amma del Green Valley è un cambiare pagina. Noi di San Giovanni in carico ci teniamo in modo particolare al cambiare pagina verso il Green. Questa è un'opportunità sia di rilancio del territorio, sia del rilancio del Green ma soprattutto un riscatto dei giovani che possono loro stessi entrare a far parte di un progetto innovativo che riguarda il loro comune.